Sesta edizione qui alla Fiera di Bari per AgriLevante, esposizione internazionale delle macchine, degli impianti, delle tecnologie per la filiera agricola, la più importante tra le manifestazioni fieristiche dedicate al settore primario che si svolgono nell'intero bacino del Mediterraneo. La manifestazione biennale ospita 350 aziende espositrici e copre sei filiere produttive, cerealicola, energetica, olivicola, ortofrutticola, vitivinicola e zootecnica e proprio qui è la novità di questa edizione 2019, non tanto per le macchine, le attrezzature, per gli allevamenti presenti comunque anche nelle passate edizioni ma soprattutto perché quest'anno per la prima volta ci sono gli animali, oltre 500 capi che offrono uno spaccato del patrimonio di biodiversità dell'Italia ma anche un doveroso tributo a un comparto, quello zootecnico, molto importante per l'agricoltura in tutto il bacino del Mediterraneo. Massimo Goldoni, amministratore delegato Federa Una Coma Sur, AgriLevante by Eima. Nuova edizione, edizione 2019 e con grandissimi numeri, quindi obiettivo superare le edizioni precedenti e credo che i presupposti ci siano tutti. I presupposti ci sono, i numeri ci danno ragione, abbiamo visto bene quando anni fa, in tempi non sospetti, chiedevamo a gran voce uno spin-off da Fiera del Levante, che era una fiera campionaria a settembre e era ormai evidente che la parte agricola era la parte predominante. Quindi la nostra richiesta, per fortuna ascoltata e esaudita, di portare fuori la parte agricola e di farne un evento a sé, ha dimostrato la sua valenza. Noi alla sesta edizione stiamo superando di nuovo i numeri delle edizioni precedenti, siamo a oltre 350 espositori che vengono qui in questi giorni a mostrare le loro tecnologie. Puntiamo a superare ovviamente l'afflusso di visitatori, di pubblico, però prima della fiera non mi sbilancio sui numeri, ma a me piacciono i numeri pari, le cifre tonde, quindi aspiriamo ovviamente a numeri importanti. Abbiamo inserito delle novità molto importanti, che sono la parte zootecnica, quindi un completamento di quello che è un quadro sull'agricoltura del mezzogiorno legato a coltivazioni specializzate, ovviamente a tecnologie e innovazioni in quel senso, però complementari con un mondo dell'allevamento, bovino, ovino, caprino. Riteniamo che sia un ulteriore passo nella realizzazione di un evento internazionale che abbraccia un'agricoltura del Mediterraneo e che va a puntare ovviamente tutta la parte dell'Africa settentrionale, i Balcani, il Medio Oriente e oltre, perché riteniamo che le tecnologie qui in mostra saranno comunque apprezzate, ambite da un po' tutti i paesi che hanno le stesse caratteristiche. Numerosissime e anche le delegazioni straniere, sono una quarantina per cui continuano i rapporti, si incrementano i rapporti B2B, c'è questo richiamo nel nome agrilevante by EIMA che quindi non abbiamo dubbi, non ci possiamo sbagliare e a proposito di EIMA c'è da dire che sono partite in anticipo rispetto al passato le prenotazioni per gli spazi e mi sembra che stiano andando veramente molto bene, non ve l'aspettavate quasi. Diciamo che ci ha ovviamente positivamente sorpreso ed è una conferma al nostro lavoro, è chiaro che quest'anno è stato un anno particolare nel senso che ci siamo trovati oggetto di un attacco da parte dei nostri cugini d'Oltralpe del CIMA francese, al che noi abbiamo mutuato una pratica che viene conosciuta come Click Day, praticamente abbiamo messo a disposizione degli espositori dal 23 di settembre alle 11 di mattina la possibilità di iscriversi. In due giorni abbiamo venduto praticamente la metà degli spazi espositivi. secondo me noi arriviamo verso la fine di ottobre, prima di novembre ad aver quasi esaurito le aree. Dirò di più, in alcuni settori, visto che sapete che la fiera è divisa in saloni tematici, siamo già al sold out. Sesta edizione per Agri Levante, l'occasione anche per fare il punto sui dati del mercato per quanto riguarda l'Italia ma soprattutto per quanto riguarda il bacino del Mediterraneo che è il vaccino di riferimento della manifestazione. Sì, l'Italia è un mercato che quest'anno è partito nel primo semestre in maniera molto positiva, sia come trattore che come macchine agricole. Il dato matricolato del trattore che è quello più attendibile, quello più riscontrabile, è recita un più 6% nei primi sei mesi. Il terzo trimestre, cioè da luglio a settembre, è un po' calato il mercato, abbiamo perso quasi tutto il vantaggio che è stato nei primi sei mesi, siamo a 1,7. con una diversificazione abbastanza spiccata tra la macchina a campo aperto più 0,4 e il trattore specializzato più 4%. A livello Mediterraneo tutte le nazioni che si affacciano, che per noi sono molto importanti a livello di export, tipo il Marocco, la Tunisia, l'Algeria, l'Egitto con eccezione fatta per la Turchia che ha un momento di grossa crisi, stanno crescendo e stanno crescendo bene. Se non ci sono sconvolgimenti geopolitici, tutte queste nazioni sono destinate a crescere negli archi dei prossimi anni da un 5 a un 8-10%. E' eccezione fatta per la Tunisia che perderà un po' di mercato dal 2019-2021 per il semplice fatto che perderà un po' la sua funzione di hub per il transito delle macchine verso un mercato tipo l'Algerino che fino all'anno scorso, o fino a pochi mesi fa, era chiuso per problematiche di Dazi e il mercato libico che sappiamo tutti di cosa sta soffrendo. Agrilevante e molto importante per l'agricoltura specializzata, che vede l'Italia comunque leader a livello sia europeo che penso anche a livello mondiale, e per le macchine specializzate di cui noi italiani siamo i più grossi produttori mondiali. Brevemente considerato che siamo a Bari, quindi in Puglia i dati della Puglia non sono positivi, lo sappiamo, una regione che ha avuto delle grandissime difficoltà, però mi sembra che l'interesse a lavorare insieme con Federa Unacoma da parte del governatore Emiliano in vista di futuri prima serie, mi sembra che ci sia. Assolutamente Emiliano oggi ha dato una bellissima apertura al nostro settore, alla nostra idea, alla nostra volontà di buttare l'agricoltura italiana e la meccanica italiana verso una sempre più specializzazione. La Puglia viene in un primo semestre al meno 9,7% e negli ultimi dieci anni, 2008-2018, la Puglia ha perso il 20% di macchine immatricolate, con un mercato dell'usato che è esploso. E questo è un peccato soprattutto in termini di efficienza e di sicurezza. Ricordiamo sempre che l'agricoltura in Italia è il secondo settore per morti sul lavoro dopo l'edilizio, non abbiamo più di 200 morti sul lavoro che si potrebbero evitare in gran parte se avessimo macchina norma dell'ultima generazione. Analisi dei mercati, innovazioni, strategie per il futuro di questa agricoltura dell'area del Mediterraneo, di tutto questo si è parlato, si parla nel corso delle giornate di Agri Levante, poi ci sono anche però anche tanti altri punti forti, il concorso Novità Tecniche, per esempio, area all'aperto per le dimostrazioni legate alle filiere bioenergetiche, un ricchissimo programma di incontri, di workshop, poi i saloni tematici, mia dedicato alla multifunzionalità e la vita in campagna per chi invece professionista non è. Insomma, gli spunti sono davvero tantissimi, noi li affronteremo volta per volta nelle prossime puntate, nelle prossime settimane, dedicando proprio una serie di speciali. E il nostro collegamento da Bari si chiude e io restituisco la linea.